Loredana Bertè, ultime notizie dall'ospedale. Finalmente una buona notizia, però lei deve... Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie. Loredana Bertè Qualche giorno fa ha sconvolto i suoi fan con un annuncio scioccante riguardante la sua condizione di salute e il ricovero in ospedale. Dopo il recente ricovero a Roma per gravi problemi all'intestino, la cantante ha finalmente fatto luce sulle sue condizioni tramite un post su Instagram, che ha mandato il web in subbuglio. In pochi istanti fa, Loredana ha rivelato di essere tornata a Milano, dove continuerà a ricevere cure e a sottoporsi a controlli medici. Il lungo messaggio social di Loredana ha sollevato una marea di domande tra i suoi seguaci. La cantante ha espresso il suo rammarico per aver annullato i concerti a Roma e a Varese, sottolineando che le sue condizioni fisiche non le hanno permesso di sostenere impegni così gravosi. Ecco che il mistero si infittisce. Mentre Loredana si scusa con i suoi fan per lo spostamento dei concerti, non possiamo fare a meno di chiederci quali siano i reali dettagli della sua salute. Ma non è tutto buio e tristezza. La Bertè ha rassicurato i suoi seguaci annunciando la sua partecipazione a The Voice Senior, dove ricopre il ruolo di giudice. Con un team che definisce pazzesco, sembra pronta a tornare sotto i riflettori. Ma sarà davvero così?